fratelli sorelle amici cari pace del signore buona giornata a tutti quanti oggi è martedì 22 settembre sono le sette del mattino e iniziamo questa nuova giornata leggendo nel libro dell'apocalisse nel capitolo 3 i primi sei versi sono versi interessanti forti perché c'è un rimprovero che viene rivolto a questa chiesa molto pungente da parte del signore e lo vogliamo guardare insieme alla luce della parola di dio qual è il problema di questa chiesa era una chiesa che aveva fama di essere viva ma che nella realtà era morta era una chiesa ipocrita in altre parole era una chiesa dove c'era una situazione di apparente devozione dove sembrava che tutto fosse spirituale dove sembrava che tutto stesse andando bene ma la realtà era una realtà ben più triste era un po una chiesa farisaica nel senso che come gli scrive ai farisei del tempo di gesù avevano l'apparenza della devozione infatti gesù li definisce sepolchi imbiancati che di fuori sembravano essere puliti netti mentre nella realtà di dentro erano marci sporchi carichi di peccato e il signore richiama questa chiesa la chiesa di sardi perché vuole che questa chiesa possa ravvedersi per essere di nuovo al centro della volontà di dio per essere benedetta dal signore per essere una chiesa usata da parte di dio e soprattutto perché i membri di quella chiesa può stessero essere salvati dio è vero richiama e delle volte anche molto duro diretto nei suoi richiami ma lo scopo che dio si pone sempre quello di scuotere le coscienze di coloro che vivono nel peccato nell'illusione della sterile religione scuotere quelle coscienze affinché ci sia ravvedimento affinché ci sia un andare a dio secondo quello che dio stabilito cioè adorandolo in spirito e verità oggi ci sono molti che pensano che aderendo ad una chiesa che seguendo una religione possono essere salvati ci sono molti che si accontentano di un nome ma la volontà di dio è che noi non portiamo il nome di una religione ma possiamo portare il nome di cristo nei nostri cuori e possiamo essere vivificati dalla sua grazia per essere veramente una la luce di questo mondo e il sale di questa terra signore dice a questa chiesa si vigilante la forza il resto che sta per morire perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio dio sì la valutazione che viene fatta è alla luce della volontà di dio questa chiesa probabilmente compiva tante opere ma non erano opere fatte in modo pieno soprattutto non erano opere fatte secondo il piano di dio non basta operare è necessario operare secondo la volontà del signore non basta essere pieni di iniziative è necessario che queste iniziative siano mosse dai giusti sentimenti siano mosse anzi siano spinte dall'amore lo dice paolo nella prima corinzi capitolo 13 potrei dare tutti i miei beni potrei darmi ad essere arso potrei parlare le lingue degli angeli le lingue degli uomini se non ho amore tutto questo non mi giova a nulla questa chiesa non c'era evidentemente questo spirito che li animava ma c'era soltanto un attivismo formale finalizzato forse a mettersi in mostro a mettere a tacere la coscienza ricordati dice il signore a questa chiesa come ha ricevuto e ascoltato la parola serbala e ravvediti ricordati in altre parole il quello che la parola di dio ha prodotto in te probabilmente questa chiesa era stata benedetta da dio le conversioni erano state conversioni genuine erano state conversioni dove si erano visti i segni e i frutti del ravvedimento ma è probabile che poi tutto questo sia venuto piano piano a scemare forse era un seme che era caduto tra le spine spine che ora stavano soffocando quel seme stavano distruggendo il frutto della grazia e dio voleva che quelle spine fossero estirpate via perché desiderava che invece quel seme potesse diventare un albero fruttifero una testimonianza vivente e perenne della potenza della grazia di cristo gesù se non ti ravvedi se non sei vigilante io verrò dice il signore verrò come un ladro di notte e sarai sorpreso un po come le cinque vergine disavvedute che non avevano l'olio e quando lo sposo arrivò provarono ad entrare ma non vi entrarono perché siccome non avevano l'olio delle lampade provarono ad andarne a comprare ma non fecero in tempo a comprarlo se c'è un tempo per il ravvedimento quello è oggi lo dice lo scrittore agli ebrei oggi se dice udite la mia voce non indurite il vostro cuore oggi date ascolto a quella parola probabilmente a sardi quando l'evangelo era stato annunziato i membri di quella comunità avevano preso sul serio quella parola e avevano dato spazio a quella parola nei loro cuori ora erano diventati insensibili forse alla parola di dio è possibile che il conduttore di quella comunità avesse provato vedendo la situazione a scuotere quei credenti dal torpore in cui si trovavano senza vedere grandi risultati ora il signore parla direttamente dice a quei credenti è venuto il momento un po quello che dice paolo ai romani di svegliarvi dal sonno perché perché il giorno del signore sempre più vicino e non possiamo permetterci di rimanere assopiti ma abbiamo bisogno di vivere un vangelo reale abbiamo bisogno di una vita risvegliata ecco la chiesa di sardi era in quella condizione sardi però non era soltanto questo a sardi c'erano alcuni che camminavano per le vie del signore che non avevano contaminato le loro vesti a questi il signore fa una promessa essi avrebbero camminato con lui perché erano degni di farlo e dio ci ria grazia anche a noi di avere delle vesti bianche dio ci ria grazia di non contaminare le vesti non stiamo parlando naturalmente degli abiti che indossiamo ma della veste spirituale e dio ci conceda di essere degni un giorno di poter camminare nella gerusalemme celeste insieme al signore chi vince sarà vestito di vesti bianche chi vince dio ci ria grazia di vincere vincere non solo le battaglie della tentazione ma anche la tentazione di lasciarci andare per magari intorpidirci assopirci incrociare un po le braccia lasciarci un po prendere così dall'indifferenza la rovina arriverebbe no 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 noi vogliamo vincere noi vogliamo essere attivi noi vogliamo camminare nelle vie della gerusalemme celeste coraggio fratelli sorelle manteniamo viva la nostra fede e permettiamo allo spirito di dio anche oggi di condurci dove lui vorrà dio ci benedica la sua pace il suo amore la sua grazia siano con tutti noi no 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 no